Tutto pronto, aspettiamo soltanto che arrivino i 1750 finalisti alla fase nazionale, si sono concluse l'11 di marzo le selezioni con la selezione di recupero di Sestriere, i conti sono bellissimi, i numeri sono eclatanti, quest'anno abbiamo avuto oltre 7500 partecipanti alle fasi regionali e o provinciali a seconda delle varie zone, abbiamo adesso già una trentina di nazioni iscritte ma le iscrizioni per quanto riguarda le squadre internazionali chiuderanno solo mercoledì, aspettiamo anche la neve perché pare che qualche cosa possa arrivare però in questo momento so che i nostri collaboratori più preziosi, Gian Piero Danti e tutti gli uomini della società Betone Funivia stanno lavorando alacremente proprio per darci la possibilità di queste sette giornate di gare che partiranno sabato con la prima finale nazionale dei bambini più piccoli, i baby 1, domenica i baby 2, continueremo con i cuccioli 1 e cuccioli 2 lunedì e martedì per poi arrivare al mercoledì dove scenderanno in campo i più grandi, sia ragazzi che gli allievi, quelli formeranno le due squadre nazionali appunto che venerdì prossimo e sabato si contenderanno il pinocchio d'oro, d'argento e di bronzo.